C'è un mondo meraviglioso che non conoscerete mai, pieno di feste che non vi godrete mai, abitato da persone che non incontrerete mai e c'è un uomo che farebbe qualunque cosa. Voglio che tu venga a New York a lavorare per me alla rivista Charlotte. Per entrarci. Che cazzo ti sei messo addosso? Carina eh? Ne ho una anche per te. Grazie. È Sidney Young. Ti ho visto alla mia festa poco prima che la rovinassi col trucchetto del maiale. È la tua occasione, sei il mio piccolo killer. Sharps Magazine, sono il redattore culturale. È la tessera di una biblioteca. È un giornalista. Sono qui per svegliarvi un po'. E hai il mondo ai suoi piedi. Questo è New York. Le donne escono con gli uomini di successo. Io avrò successo. E altri. Ti do un consiglio. Sei un'attrice e non hai ancora vinto un Oscar. No. Non parlare con le celebrità. Ti voterei come miglior vestito non protagonista. È inglese. Siete invitati ad assistere... Ciao, Sidney. ...alla straordinaria storia di un uomo... E vado a giocare un po'? Noi tutti mi considerano un'idiota. ...che partì dalla gavetta... Nooooh! ...e non si fermò più. Sidney Young è la persona più in gamba di questo posto. Oh! Volevo fare amicizia! Simon Pegg, Kissed and Danced, Danny Houston, Jillian Anderson, Megan Fox e Jeff Bridges. Tu sei alla festa adesso. Sei finito! Star System. Se non ci sei, non esisti. ...e non ci sei, non succavi dire arc. Come, get in! Come, get in! Allora!